è partito il video eccoci qua allora la notizia che vi do oggi da genova è che mi dicono che la roma ha chiesto informazioni su un giocatore del genoa che si chiama coni de winter è un giocatore belga che ha all'attivo anche una stagione nell'under 23 o next gen della juventus credo che forse è ancora in pressito dalla juventus e sta giocando nel genoa adesso non mi ricordo bene questo particolare un classe 2002 alto un metro e 91 anche una presenza nazionale belga dove ha fatto tutta la trafila nelle giovanili è un giocatore che qui a genova ha una sua considerazione si è fatto una una reputazione non si tratta di una trattativa non sarà fatta nessuna offerta però sono state chieste informazioni quindi la vera notizia che è molto importante è che la roma sta cercando questo è quello che ci interessa di più un difensore centrale per completare la difesa per completare questo calciomercato che è bene ricordarlo termina il 30 agosto questo è stato fatto che è molto importante